Ancora caos e grandi disagi sulla statale adriatica a causa delle migliaia di tir a cui è interdetto il traffico sull'A14. L'ultima istanza ancora non ci giunge notizia sul viadotto Cerrano, sulla situazione proprio del viadotto. Abbiamo le istanze ricettate per quanto riguarda invece i New Jersey. Sicuramente le notizie che ci giungono con il contagocce non sono positive. Dunque spero che mi smentiscano e spero che a breve si trovi una soluzione al problema. Naturalmente la gente è esasperata e dunque la pazienza inizia a scarseggiare, soprattutto per il fatto che Silvi è sotto assedio. E infatti il traffico è addirittura aumentato questa settimana? Ma questa settimana purtroppo da lunedì a ieri abbiamo evidenziato con il monitoraggio dei flussi oltre quota 5.000 mezzi pesanti nelle 24 ore. Dunque 5.000 mezzi pesanti al giorno, sicuramente è un dato allarmante perché è un dato che va a incidere sicuramente anche sulla qualità dell'aria. Ed ecco quali potrebbero essere, a detta del sindaco, le possibili soluzioni. Queste, seppur non definitive, potrebbero alleviare la situazione. Intanto inizio ad aggiungere qualche soluzione. Era da tempo che chiedevamo un piano strategico di intervento perché Silvi non poteva sopportare una situazione del genere ancora a lungo. Le prime soluzioni comunque sono pagliativi, però almeno diamo una risposta. Oggi sentivo la federazione dei autotrasportatori che vogliono autointerdire il loro transito dalle 16 alle 20. Dunque nell'orario più critico di rientro dalla parte dei cittadini a casa. Dunque questa potrebbe essere una piccola soluzione. Sicuramente dobbiamo studiare anche altre tipologie come la 24-25 oppure altri aspetti che naturalmente adesso i tavoli di confronto lo evidenzieranno. Intanto aumentano i danni al manto stradale. Il primo cittadino è sul piede di guerra e annuncia battaglie legali. C'è notizia del Presidente Marsilio che ha chiesto ufficialmente all'ANAS di riprendersi la gestione del tratto perché come Comune di Silvi stiamo facendo interventi quotidiani. Ieri due rotture, una in zona nord e una in zona sud di condutture sul manto stradale con ripercussioni sul traffico. Dunque veramente una situazione insostenibile, insostenibile per i cittadini e per lo stesso Comune perché non ha risorse per affrontare da solo un'emergenza del genere. E voi come Comune chiederete i danni? Indubbiamente ci siamo già mossi e ci muoveremo ancora attraverso azioni anche legali per avere almeno il ristoro economico dei danni che abbiamo subito. La preoccupazione adesso ad oggi è anche quella economica perché sia le attività commerciali ma soprattutto anche quelle turistiche in previsione della nuova stagione che arriverà ne stanno già risentendo con la diminuzione degli incassi e soprattutto sulle prenotazioni per la stagione estiva. Nel frattempo il consigliere regionale Pietro Quaresimale ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di almeno 200 milioni di euro per la grave situazione relativa alla tratta dell'A14. Dici